Allora, un prete va a vendere le case in alta montagna. La signora che aveva il suo mario è migrato, e ha inserato la porta, e ha detto, da qua non deve via finché non deve essere incontentato. Dice il prete, ha un po' suoni a me, e che vuoi dedicare la vita al Signore? Deveva un curto, ha detto, o deve essere incontentato, e se no da qua non deve essere via. Va bene, dice questo prete, che lo manderò il permesso al Signore? E va vissì a finestra, e mette la testa fuori per la finestra, e dice, Signore, guarda, farghia! L'eco della montagna risponde, farghia, 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 ma non è che il Signore sia buon com'è qua, e mi ha detto che posso farla. Dopo un giusto momento, la Signora vuoi ancora, e non è che tu, non posso mai abusare da montare il Signore, una volta e basta. Vecchio ha detto, o te mi contenti, e se no da quando ti asso nel via sono qualche me brucio. E ha detto il prete, che domandò un'altra volta il permesso al Signore? E va vissì a finestra e dice, Signore, a voi ancora? E l'eco della montagna risponde, ancora, 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 madonna, ha detto, Signore, si, se buon com'è qua, madonna, ha detto che buon. Ma un certo momento, sto parlo qua, e va vissì a finestra, e fa, Signore, a voi sulle lecca. E l'eco della montagna risponde, lecca, lecca, lecca. Allora. Allora. Allora.